segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te uno non vale l'altro ha detto è meno male siete partiti da uno vale uno allora volevo cercare di capire cosa mantenete però del vecchio movimento quali battaglie immagino il reddito di cittadinanza sia una battaglia che rivendicate anche se siete usciti noi siete in un altro gruppo a cosa non rinunciate perché invece uno non vale l'altro un'altra indicazione precisa del movimento io credo che sui contenuti noi non rinunciamo diciamo le battaglie storiche soprattutto dobbiamo però capire che vanno introdotte delle altre o modificate anche quelle che sono alcuni temi delle battaglie storie il reddito cittadinanza secondo me uno strumento e lo dico da persona tra l'altro che viene dalla provincia di napoli che vive in un territorio complesso vado fermo parlo con le persone è vero ci sono state persone che ne hanno approfittate non potremmo negarlo sotto gli occhi tutti sono perso c'è un meccanismo quello di accesso al mondo del lavoro attraverso i centri dell'impiego che non ha funzionato come avremmo voluto quindi che si possa e si debba modificare qualcosa non c'è dubbio allo stesso tempo chi mi viene a dire che non è servito e che viene preso solo da persone che non ne hanno bisogno dice una grande bungia o non conosce diciamo la realtà di centinaia di migliaia di famiglie che invece grazie al reddito cittadinanza hanno potuto veramente sopravvivere in un momento così difficile io quello che vedo è differente soprattutto nel metodo nell'approccio e proprio nella cultura istituzionale di chi vuole fare politica quello che è cambiato veramente e questo grazie all'esperienza e purtroppo grazie anche agli errori che abbiamo compiuto è il modo di capire che il paese si gestisce con soluzioni complesse a problemi complessi con una competenza con una preparazione che tutto quello che dicevamo in campagna elettorale parte poteva essere realizzato ma parte no e quindi quando oggi di maio dice operazione verità intende dire non vogliamo fare un'altra campagna elettorale promettendovi le cose che poi sappiamo già che non sono realizzabili o comunque che non sono quelle che servono realmente al paese quindi quello che è cambiato è proprio questo cioè la maturità e quell'approccio per essere oggi credibili come classe dirigente rispetto a quando non lo possiamo negare tra l'altro se lo ricordano tutti dicevamo cose che poi alla realtà dei fatti sono rilevate molto più complicati ecco da 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 gestire vi siete liberati no lei ha detto è stata quasi una liberazione per per noi ieri vi siete liberati anche diciamo così dal padre nobile dalla dalla suo essere sempre lì e correre a roma sto parlando di beppe grillo ogni volta che il movimento aveva un problema allora intanto credo che diciamo proprio sia un dato di fatto nel senso grillo rimane nel movimento 5 stelle quindi diciamo da un punto di vista della presenza e del dialogo immagino appunto che lui sia e rimanga del movimento 5 stelle poi con tutta sincerità va anche detto una cosa io non ho un rapporto costante di dialogo con grillo non ho mai avuto in questi anni perché non c'è consuetudine però francamente io vorrei fino in fondo riconoscere a grillo e a giroberto casaleggio il fatto che abbiano avuto più di dieci anni fa un'intuizione straordinaria grazie alla quale tutti quelli che sono rimasti in movimento quelli che oggi siamo insieme per il futuro hanno potuto fare il percorso che hanno fatto con tutti gli errori del caso con tutte le contraddizioni del caso però io non dimentico mai il valore sociale politico di una forza che nel momento in cui in altri paesi d'europa si scendeva in piazza c'erano proteste altro il movimento ha canalizzato quel voto contro che in altre realtà in altri paesi invece è sfociato in ben altro poi come ha gestito quel voto e quel consenso è storia che stiamo ormai analizzando da tempo però quindi il mio riconoscimento a grillo è sempre totale credo che in questo percorso che questo percorso non l'avete sentito in queste ultime ore suppongo di maio io non ho consuetudine con lui a questo punto secondo lei il governo ha indebolito da questa vostra scissione c'è chi dice in qualche modo di sì insomma intanto bisognerà vedere che cosa farà conte con i suoi perché restare dentro meglio un appoggio esterno insomma in questo momento perché avete deciso di dare questo segnale proprio in questo momento delicato insomma per il paese e non solo per il paese a livello internazionale sappiamo perché esatto per quello che sta pensando immaginando lei cioè il fatto che in un momento di crisi internazionale il governo invece deve essere forte deve essere un governo che si può presentare e lo è di più adesso con questa spaccatura tra di voi invece secondo me sì se il movimento esce intanto questo non è sempre un terno all'otto proprio per il fatto che il movimento non sa non sta seguendo una linea politica perché oggi il movimento non è più la prima forza parlamentare questo evidente abbiamo 62 persone ma saranno di più in queste ore che appoggiano convintamente il governo non mi sembra che nelle altre forze politiche al netto della lega che però escludo che possa uscire dal governo ci siano fibrillazioni cioè quindi probabilmente si sta invece sempre più consolidando una maggioranza che tiene in vita con determinazione questo governo da qui alla fine della legislatura poi su cosa farà conte guardi io ho visto dare in questi mesi continui penultimatum su tutto poi alla fine non è mai successo nulla deciderà questa volta invece di ritirare delegazione dovrà spiegare anche lui perché poi perché alla fine ormai è in questo governo da più di un anno lui stesso è stato presidente del consiglio due volte quindi se questa è un'operazione perché gli ultimi dieci mesi prima della campagna elettorale il movimento recuperi una sorta di virginità persa mi sembra veramente illusorio e la gente non ci casca davanti a tutto questo questa è un po' la strategia di comunicazione delle persone che sono attorno a conte ma è cambiata all'epoca storica non siamo né nel 2013 nel 2018 quello che aveva da dire il movimento l'ha detto in quegli anni e secondo me anche bene oggi che pensino di far rifare a conte quello che era di maio di battista o altri personaggi negli anni passati che hanno incarnato un sentimento intanto conte non è loro conte è un avvocato milionario d'affari che viene da una storia completamente diversa e non può incarnare secondo me per sua natura qualcosa del genere parole dure no 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 ma dico semplicemente allora io rivalisco conte è stato io mi ricordo quando conte è stato presentato proprio da di maio no doveva essere all'inizio ministro l'avvocato del popolo e adesso insomma sono parole dure l'avvocato milionario no 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 ma voglio dire io intendo soprattutto dire che lui come leader politico di una forza che vuole rappresentare quei valori e quei ideali che il movimento ha rappresentato in passato ha fallito dopodiché come presidente del consiglio ribadisco soprattutto nel momento in cui ha governato la pandemia è stato un presidente del consiglio che ha retto bene in un momento molto complicato calenda oggi in un'intervista dice che calenda oggi in un'intervista dice che